Nel centro storico, come in periferia, da via Duomo a via Mercanti, passando per piazzetta San Giovaniello fino ad arrivare a Sant'Eustacchio. In alcune zone di Salerno il comune denominatore sembra essere purtroppo l'immondizia. Strade sporche, assenza di cestini, carenza di campani di vetro e d'altro ancora. Il grido di allarme dei commercianti nel cuore della city che lamentano il passaggio troppo sporadico degli operatori ecologici. Nel quartiere Sant'Eustacchio i cumuli di immondizia sono fin troppo evidenti. Io credo che quantomeno dei grandi bidoni di spazzatura, come si fa nelle case, dei bidoni portatili davanti ai negozi, agli operatori commerciali, potrebbe essere un'idea. Però ripeto, i mezzi e forse gli addetti ai lavori non sono tantissimi rispetto a una città che oltre agli abitanti ha moltissime persone, moltissimi operatori che di morte a morte fuggi. Quindi se non c'è cestino, se c'è un punto, un'isola di raccolta, se non c'è una raccolta continua, se non c'è dei mezzi che spazzano, credo che ci siano ancora dei coreandoli del carnevale scorso per terra, basta guardare un attimo. Purtroppo dobbiamo riscontrare che il centro storico negli ultimi mesi si stanno rilevando gravi problemi di pulizia con tante micro discariche nei vicoli o nelle piazzette, in particolare noi ci troviamo via mercanti, San Giovaniello è diventata insostenibile. Con questa micro discarica dove presumo esercenti della zona o anche forse residenti si sentono legittimati a spunto scaricare i loro rifiuti a cielo aperto. Io sono drastico, credo che a questo punto mancano i controlli perché al di là della pulizia quotidiana c'è necessità di repressione, di reprimere dei fenomeni di rilascio abusivo di questi anche grossi rifiuti, risultati di notevole importanza. Ripeto, al netto del quotidiano ci troviamo di fronte a dei problemi straordinari, ci sono rifiuti molto grandi per cui anche una volta chiamati, viene ripulito ma dopo una settimana ci si trova con questi montagni, questi cumuli di rifiuti, inaccettabile per quello che dovrebbe essere appunto il cuore della città. No, non è direttamente sull'attività commerciale, ma è per il decoro pubblico. È brutto far passeggiare i turisti, visto che ormai siamo a vocazione turistica, far passeggiare i turisti fra i rifiuti e i mozziconi che sono civili quelli che le buttano, però è neanche contemplato che chi dovrebbe toglierli non lo fa. Avete parlato, avete chiesto aiuto alle istituzioni, all'assessore all'ambiente? I soldi non ce ne sono. Purtroppo la risposta ricorrente è quella, quindi niente c'è in gettacarte perché bisognerebbe comprarli e non ci sono i soldi, niente lavori, ma io non ci chiediamo interventi straordinari, questo è l'ordinario. Noi paghiamo comunque una tassa sui rifiuti bella alta. Onestamente io personalmente tra casa e negozio pago 120 euro di spazzatura al mese e dovremmi spazzare la strada da solo, un po' mi dà fastidio.